Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera e benvenuti all'appuntamento numero uno con Palla Volè, un termine che coniuga la Palla Volè con l'Olé che naturalmente esprime entusiasmo e tutto il resto, euforia. Quindi è uno sport che ci piace, ci piace molto e questa prima puntata l'apriamo con un trio d'eccezione perché cominciamo subito a presentare Fabio Di Camillo che è il presidente della FIPA Vabruzzo. Buonasera Fabio, presidentissimo. Tutto a posto per le elezioni e tutto il resto. Stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda l'impavida ortona non poteva che essere lui, Nunzio Lanci, allenatore da una vita. Nunzio, quanti anni sono che alleni l'impavida? Non te lo ricordi? Sono nove anni di A2. Questi li so anch'io. 14, 15. 14, veramente una vita, una vita davvero. Grazie al mister Nunzio Lanci della Secoservice in Pavida Urtona. E poi c'è un altro presidente, Guido Abbondanza, che vince e basta. Vince, 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 vince con la sua squadra. Undicesima vittoria consecutiva, roba da record. Buonasera Guido. Buonasera, buonasera a tutti. Felicissimo, si vede, come una Pasqua, un po' dall'espressione, subito. Va bene, quando si vince è sempre bello, dai. Hai ragione, hai ragione. Io allora vado, intanto approfitto, visto che ho parlato di due presidenti, per salutare un altro presidente di un altro sport, un presidente nero-verde, il dottor Giulio Trevisan, che non è uno qualunque, tra l'altro. E voglio anche velocemente dire che la seconda puntata di Pallavolè andrà eccezionalmente in onda giovedì 25 febbraio, non mercoledì, ma alle 21. Quindi solo in via del tutto eccezionale per il prossimo appuntamento si tratterà di una serata diversa, cioè giovedì e non mercoledì, poi riprenderemo canonicamente il mercoledì alle 21.30, mentre giovedì prossimo, 25 febbraio, saremo in onda alle ore 21. Tutto questo per colpa della Serie B, colpa si fa per dire naturalmente, perché i campionati di Serie B si giocheranno il 24, cioè mercoledì prossimo, e noi vogliamo stare su alcuni campi, mentre per quanto riguarda A2-A3 tutto regolare, si giocherà domenica. Ma di questo parleremo abbondantemente, vedi che se mi ispiri qui do abbondanza abbondantemente, fra qualche istante. E allora io devo salutare semplicemente questo, devo dire, un abbraccio a Cecilia, Stefano e Daniel, tre inimitabili perle di inestimabile valore e approfitto anche per salutare un nostro fedelissimo, cioè Federico Palmino, che ci tiene molto alla trasmissione di Pallavolo. Allora, detto tutto questo, voglio anche anticipare che le repliche della nostra trasmissione ci saranno una subito, la stessa sera del mercoledì, dopo la mezzanotte, mezzanotte e mezza, anzi per essere più precisi, ogni giovedì alle 17.30 e il sabato mattina alle 12.30, ma poi avremo modo di reclamizzare tutto questo col tempo. Allora, intanto una battuta generica per tutte e tre, poi scenderemo in campo letteralmente con i nostri titoli. Allora, io credo che Fabio Di Camillo, il presidente FIPA Vabruzzo, possa essere più che soddisfatto, superiamo subito il discorso della pandemia perché se no stiamo male solo al pensiero, ma si possa essere ampiamente soddisfatti di questa partenza, anche quella della Serie B, perché quest'anno effettivamente le due squadre di Serie A, di A2 e di A3, ti stanno dando un mare di soddisfazioni e non dimentichiamo che l'Impavida adesso ha una posizione di classifica, diciamo intanto che è parziale perché deve recuperare i due partiti e peraltro è in casa, ma è stata al comando da sola per lungo tempo. Quanto a Labba Pineto, sappiamo tutti che cosa sta combinando. Io credo che sicuramente per quanto riguarda la nostra attività di vertice, quest'anno non possiamo che essere soddisfatti, sia Ortona che Pineto stanno facendo dei campionati assolutamente importanti e noi siamo felici, li stiamo seguendo. È chiaro che per quanto riguarda il nostro movimento, la Serie B e di ieri la notizia che la federazione, visto quello che sta succedendo, visto le grandi difficoltà a cui vanno incontro tutti i nostri club, per quanto riguarda il discorso della pandemia, anche per quest'anno, per il secondo anno consecutivo sono state evitate, sono state annullate le retrocessioni. Quindi si continuerà a fare questi, continueranno la nostra squadra a fare questi campionati un po' anomali, con la consapevolezza che rimarranno comunque l'anno prossimo, sperando che la prossima stagione, a questo punto 21-22, possiamo ricominciare a considerarla una stagione normale, ho qualche dubbio anche al riguardo, ma se questo dovesse accadere le nostre squadre ai nastri di partenza della Serie B diventeranno ancora più numerose. Mi auguro che come hai detto tu, dai primi segnali che stavamo verificando sul campo, la nostra capacità di essere all'altezza della situazione acquisisca sempre un valore più importante, perché questa è la nostra vera sfida a cui dobbiamo far fronte nei prossimi anni quando le cose, come tutti auspichiamo, torneranno alla normalità. noi come sai, da sabato scorso siamo anche ripartiti con la C. Sì, sì, ne parleremo dopo, perché abbiamo uno spazio dedicato anche alla regione quest'anno, anzi se la vuoi anticipare tu, vogliamo dire anche che ci sarà una partita di C che manderemo in onda? Sì, nasce da una considerazione molto semplice, cioè che quest'anno come sappiamo tutti i campionati si fanno a porti chiuse, saremo obbligati a giocare a porti chiuse, quindi abbiamo pensato insieme a te, insieme alla tua emittente, di creare ogni settimana una vetrina che dia la possibilità a rotazione a tutte le nostre squadre di Serie C e femminili, maschili e femminili, di avere una vetrina appunto su mass media come TV6 e quindi per garantire anche in termini di visibilità e di contatti numeri sicuramente superiori a quelli che le nostre squadre potranno raccogliere dentro le loro palestre e quindi è uno sforzo che ha voluto fare il nostro comitato regionale che mi convince molto e che è un esperimento che speriamo di portare a termine con buon successo e con rilevanti numeri, perché poi ovviamente queste partite verranno diffuse anche sui nostri canali social, su quelle delle emittenti, su quelle del comitato e delle società stesse. Bene, buona anticipazione, peccato che non ci siamo riusciti al primo colpo perché sono state rimandate, rinviate tutte le partite, quasi tutte le partite, si è giocato pochissimo e quindi ne parleremo in un secondo tempo, ma annunceremo anche tutti i vari appuntamenti nel corso delle prossime puntate. Allora, Nunzio velocemente, poi passeremo ai titoli, Nunzio e Guido. Allora, Nunzio, beh insomma se ci fossimo sentiti due mesi fa staremmo ancora festeggiando le prime posizioni, però io credo che complessivamente in un bilancio parziale tu non possa assolutamente lamentarti per come stanno andando le cose. No, sicuramente stiamo facendo un campionato che premia la qualità della squadra, premia il lavoro dei ragazzi. Il bel gioco, fammelo dire subito, il bel gioco, sei d'accordo? È una squadra che gioca bene. Guarda, noi siamo partiti come è nostra idea, sempre come decidiamo poi all'inizio dell'anno di partire sempre abbastanza forte, perché per tanti motivi, per un'idea nostra di programmazione siamo riusciti a giocare subito una buona palla a volo, poi pian piano purtroppo per problematiche indipendenti anche dal discorso dei ragazzi, ma per altre situazioni non stiamo riuscendo ultimamente ad esprimere quella bella palla a volo che avevamo fatto che era l'inizio. Però sai, in questo campionato molto strano bisognava intere tutto quanto in conto. Piano piano stiamo tornando a lavorare a ranghi completi e speriamo di recuperare una buona qualità di gioco che ci aveva contraddistinto soprattutto nella prima parte del campionato per completare il nostro cammino nel miglior modo possibile, fare soprattutto quei punti che ci separano non tanto dai play-off, ma che ci garantiscono il discorso delle prime sei posizioni. Sì, questo è importante. Ne parleremo dopo. Scusa se ti interrompo, Nunzio, così vedremo anche le immagini dell'ultima partita, ahimè, giocata dalla tua squadra e persa in casa con la privazione di una semifinale di Coppa, è tanto, tanto, tanto rammarico. Qualcuno ha detto che non ci ho dormito la notte. Guido, felice, felice, felice. Devi cambiare il nome, non più Guido, ma felice. Felice abbondanza. Il nome non lo cambio assolutamente. Però sono felice sì. Devi guidare la squadra, fino in fondo. Come? Anche perché devi guidare, Guido la squadra. Assolutamente, assolutamente. Vai. Ma sì, felice sì, però ecco, dobbiamo capire che in questo momento forse la cosa più difficile è cercare di soffocare gli entusiasmi in questo momento. perché entusiasmarsi sì, è giusto vivere questo momento in maniera positiva, però cogliere proprio il lato positivo del momento e basta perché dobbiamo essere concreti, inutile che ce lo nascondiamo. abbiamo fatto 11 vittorie sì, ma non abbiamo conquistato nulla, non c'è nulla ancora di tracciato o di segnato. Il campionato è ancora molto lungo e sappiamo benissimo che poi la fase playoff è un altro campionato. Quindi contenti sì, ma con le dovute proporzioni. Bene, mi fa piacere che tu abbia trovato una saggezza che però a fine partita ogni volta non hai, perché esplodi in un entusiasmo diciamo così incontenibile. Però è giusto? Sì, io sono un passionale per natura, sono un trascinatore, sono uno che poi si fa anche trascinare dagli eventi, quegli eventi positivi, belli e coinvolgenti. Però ecco poi uno, come dire, bisogna ragionare con i piedi a terra e capire che il percorso è ancora molto molto lungo. Ripeto, quello che noi oggi dobbiamo fare tesoro è la positività del momento, di quello dobbiamo farne tesoro e continuare così. Ne parleremo un po' di istante, anche perché dobbiamo sentire quello che ha detto Rosichini, che è pignolo, pignolo, pignolo. Te ne accorgerai anche dalla battuta che ha fatto. E allora noi ripartiamo dai titoli e poi scendiamo a Ortona e riparliamo un po' della gara persa purtroppo in Coppa Italia, visto che non si è giocato contro il Salento. Vediamo un attimo i titoli insieme. Questi titoli che, ecco qua, ti ricordano qualcosa Guido? 11 su 11, 33 su 33, più 33, naturalmente tra parentesi, 7 vinti, e meno 3, gli unici 3 set persi nel corso di 11 gare. Pazzesco, semplicemente pazzesco. Andiamo avanti, perché sempre per te, per voi del Pineto, c'è un altro titolo. Il Pineto mena la danza. Ecco record in abbondanza. Ci sta bene? Va bene. Grazie. Allora, andiamo anche ad altri due titoli che riguardano però altre realtà. Si è giocato un derby vinto in B2 femminile dalla formazione degli impianti Futura Teramo. e a proposito di Futura, vediamo qui, Teramo guarda al Futura e il derby si assicura. Per quanto riguarda invece, Teramo ha vinto col Pescara, col Gata Pescara 3. L'Arabona sta andando benissimo, Arabona anche la quarta. Quattro risultati utili. E ora è prima. Che bella la cima. Tanto per farci la rima. E sono tre. Allora, andiamo avanti e riprendiamo con te Nunzio, perché col Taranto non si è giocato. La combinazione pazzesca che si era creata era favorevolissima. Voi ci avevate pensato sicuramente, perché il Taranto, che non ha giocato con voi, credo causa Covid suppongo, non ha potuto schierare la formazione al completo contro il Porto Viro, che è riuscito a vincere pur essendo di a tre sul campo del Taranto. Sorridi, perché è un sorriso amaro? No, perché di questo ne eravamo consapevoli, quindi a maggior ragione ci ha bruciato ancora di più. Certo, esatto. Perché avreste incontrato, spieghiamo un po' chi sta a casa, il Porto Viro, a Ortona in semifinale. Quindi diciamo una chiave di accesso alla finale, molto probabile, anche se poi non si cura, ci mancherebbe. E' così? Purtroppo, certo, purtroppo. Purtroppo, questo è l'aggettivo, l'avverbio giusto. Bisogna dire così, bisogna dire così, perché è un'occasione sprecata, brava Reggio Emilia ad approfittarne. Noi in questo momento non siamo brillantissimi, ne è testimone dell'andamento altalenante della partita. dove abbiamo fatto malissimo il primo set, benissimo il due set, malissimo il quarto. Poi, sai, il quinto sono sempre quegli episodi che possono andare da un lato o un altro il risultato della partita. Purtroppo non siamo stati bravi a sfruttare al meglio quelle occasioni che si sono presentate, quindi merito a Reggio Emilia. E' un'occasione che abbiamo perso, purtroppo, mi ripeto di nuovo, lo sport è così, dobbiamo prenderne atto e cercare di non pensarci più di tanto e di guardare avanti, perché il mio obiettivo è sicuramente quello di finire al meglio la stagione, di trovare fino in fondo ad arrivare più in alto possibile in campionato, e poi giocare tre ombre. Sono sempre un campionato a parte, noi ne siamo stati la testimonianza 4-5 anni fa. Purtroppo possono, i play-off sono quel campionato in cui ti devi trovare al posto giusto nel momento giusto, cioè ci sono tante situazioni e tante variabili che entrano in gioco, dallo stato di forma, gli infortuni, a una situazione particolare, quindi bisogna essere bravi e essere cinici a sfruttare le occasioni che si presentano. Poi il campo è quello che decreta il risultato, noi facciamo sport e quindi dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di risultato. Molte volte ci dispiace se non ci arriva, però è così. Dobbiamo allenarci ad essere più bravi degli altri. Nunzio, intanto io ti faccio i complimenti perché hai dotato la tua squadra veramente di un bel gioco e soprattutto hai dato veramente molte soddisfazioni, soprattutto particolarmente nelle giornate di andata. Può succedere di incappare una giornata strana contro Reggio Emilia che riaffronterete tra l'altro nel recupero? A proposito, si sa quando, non è con Reggio Emilia. Ma guarda, noi abbiamo queste due giornate, queste due partite di recupero che non ancora riusciamo a capire quando disputarle perché Reggio Emilia è impegnata. Ricordo se questa settimana, penso, può recupero, se non oggi, domani, può recupero con Santa Croce. Poi giocherà la Coppa. Domani c'è il recupero Reggio Emilia-Santa Croce domani, giovedì, sì. Sì, quindi è impegnata nel recupero, quindi poi la settimana dopo eravamo o l'uno o l'altra impegnata nella semifinale di Coppa. Vedremo se la settimana dopo quella là di Reggio, quella là prima della finale di Coppa. Però io e i miei sinceri dubbi perché magari loro non vorranno rischiare di giocarsi tre, quattro partite a stretto giro se dovessero passare tutti in Coppa Italia e giocarci la finale. Quindi è tutto ancora da definire e poi per il discorso di tanto si dovrà capire quando loro torneranno ad essere abili e arrolati, visto che hanno dei positivi squadra e sappiamo benissimo che le tempistiche sono quelle più o meno. Certo, ci vuole molto tempo. Nunzio, rivedendo e chiudendo la parentesi per quanto riguarda la gara contro il Reggio Emilia dove Cantagalli è stato ancora una volta il migliore realizzatore con 23 punti, 50% offensivo. Però io ho due considerazioni che vorrei fare con te. La prima, tra l'altro abbiamo visto adesso Bellé in primo piano, è stato sicuramente trascinatore, 26 punti. Tra l'altro Bellé ha avuto una piccola esperienza addirittura col Chieti, non so se te lo ricordi, con la Galeno Chieti in B1 tanti secoli fa. E' un ottimo giocatore, ha un rendimento un po' incostante, ha fatto anche la gran partita, ma ha fatto anche la partita in cui resta un po' nell'obbligo. Però è sicuramente un giocatore con delle capacità e delle caratteristiche fisiche, capacità fisiche e tecniche importanti. Travolgenti, sì, assolutamente. Però dicevo di Cantagalli va bene, niente da eccepire. Vorrei invece sottolineare due cose. La prima, io ho avuto la sensazione, mentre facevo la cronaca, che la squadra fosse un po' stanca nel quarto e quinto set. E può essere anche la conseguenza, l'effetto di tutte le gare, avete giocato una dietro l'altra, vi riferisco all'esperienza piemontese, due gare in tre giorni, poi ci può stare che perdi dopo aver vinto a Mondovì, che perdi a Cuneo. E anche l'effetto, perché l'ho visto un po' appannata proprio per stanchezza. Tra l'altro ho visto sostituire Pedron con Del Fra in una serata che non era la migliore del bravissimo Matteo, che è tra i più positivi in assoluto di una stagione. E chiudo, poi passo la parola a te. Stagione che sta vedendo una sorpresa molto lieta. A me piace molto come gioca un ragazzo di Felice 7. Di là di 17 punti e il 53% in attacco. Ma questo ragazzo gioca bene ogni partita. È una mia sensazione e non solo mia? Oppure c'è qualche altra cosa? Allora, guarda, il discorso è molto breve. Noi veniamo praticamente da 25 giorni di completa o pseudo completa in attività, perché siamo stati decimati d'accordo. Sappiamo tutti. È utile nasconderlo se si analizzano tutte le squadre che precedentemente sono state colpite e bloccate da questa malattia. Si fa facile vedere che la ripresa è sicuramente difficile. La malattia, nonostante la maggior parte dei giocatori siano asintomatici, lascia qualche strascito. Noi abbiamo Michele, Simoni, Tommaso Fabi, Dario Carelli, che sono rientrati in palestra con 4-5 tini di meno, con delle grosse deficit e novici. Cioè nel senso che non riescono a recuperare facilmente. Il Michele, Simoni di Prevani Natale non è il Michele e Simoni delle ultime due partite. Noi facciamo un gioco in cui i centrali potrebbero sembrare poco influenti, però Matteo per sviluppare le nostre trame di gioco ha bisogno di alcune certezze e accenti. Non a caso i nostri centrali hanno chiuso la partita di Reggio Emilia con il 20-25% in attacco e con un muro sordo. Quindi non è un alibi, non è una scusante, una constatazione. Nonostante tutto eravamo lì e dovevamo chiudere la partita. Non direi che ci lascoltiamo. Sarebbe stato un traguardo storico raggiungere il finale. No, però purtroppo bisogna fare i conti con tutto in questa stagione e quindi bisogna avere pazienza, cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e andare avanti. Anche lo stesso Diego Cantagalli non è così brillante come lo è stato all'inizio stagione. Nonostante tutte le soddisfazioni che ci sta regolando. Per il discorso di Fedice è sicuramente un giocatore con una grossa capacità di gioco. Un talento nel giocare a pallavolo è importante. Deve trovare continuità. Deve trovare continuità di lavoro in allenamento. Deve trovare continuità di lavoro durante la partita. Deve trovare ad essere un po' più cattivino in alcune situazioni. Sicuramente non possiamo nasconderci per quelle che sono le sue capacità. Ed è bene che sta facendo e può fare ancora durante questi campionati. Oltretutto sopperisce i centimetri che gli mancano con l'intelligenza perché è un ragazzo veramente molto intelligente e si vede da come conclude le sue azioni. Lui è un ragazzo che ha tanto talento ed ha una grossa capacità di gioco. Io ho la capacità di gioco e di saper giocare a pallavolo. Che deve essere una delle caratteristiche importanti di lui. E poi scusami. Il giocatore di pallavolo deve saper leggere i gioco. E non tutti hanno questa caratteristica. Lui è uno che ce l'ha però... È imprevedibile. Lui ha una grossa capacità di leggere i gioco. Poi da questo bisogna partire e lavorare tanto per crescere e diventare un giocatore che in questa categoria può dire tanto, può dire la sua. Il fatto che sappia leggere, come dici tu, il gioco naturalmente consente alla tua squadra di approfittarne perché lui difficilmente si fa murare pur avendo qualche centimetro in meno, come dicevo. E quindi è un ragazzo veramente sveglio e intelligente. Mi ricorda un po' Ottaviani, anche se Ottaviani ha qualche anno in più, naturalmente più esperienza. Vediamoci insieme il quadro dei risultati di domenica scorsa, quando voi non avete giocato velocemente. Poi ti faccio salutare perché ti congediamo e passiamo la palla a un guido a cui devi augurare qualche cosa. Naturalmente preparati. Allora, rivediamo quello che è successo nella 17esima giornata. La Sieco appunto non ha giocato col Prisma Taranto. Per quanto riguarda le altre, Castellana Grotta e Santa Croce 0-3, 2-3 tra Reggio Emilia e Brescia. Cuneo e Lago Negro 3-0. Lago Negro prossimi avversari. A proposito, apre chiudo una parentesi, non è facile, è scontato perché sta all'ultimo posto, vero? Devi dire solo sì o no? No, no, sicuramente è Lago Negro. Perché c'ha giocatori, Spada Vecchia, Vedobotto, eccetera, che non sono male. No, 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 è una squadra di primissimo livello. Giocò molto bene a Urtona, mi ricordo. Pur perdendo 3-0. Giocò bene a Urtona, pur perdendo 3-0, fece una gran buona partita. Sì, sì, fecero una buona partita, ma è sicuramente una squadra con un organico, ti ripeto, è un mostro importante per la categoria. Loro sicuramente ambivano a fare un altro campionato, sicuramente più di vertice, però poi si sono ritrovati a combattere nelle zone basse della Cassiglia. C'è un posto importante che è Russo-Turin, 3 schiacciatori. Che si fece male proprio, Urtona, Turin. Si infortunò a metà del primo o a sette terze. 3 schiacciatori importanti che sono Vedovotto, Marretta e Mazzone, tutte e tre con esperienza di primissimo livello, un libero di esperienza come Santucci. Quindi è una partita non semplice. Poi stanno tornando a giocare una buona palla a volo, un tecnico di provata esperienza come Tuberti. Quindi ci sarà da combattere. Scusate se ti interrompo, finiamo di vedere un po' i risultati classifichi dei Serie A. Mancava il Siena che ha vinto col Mondovì 3-1, Bergamo Cantù 3-0. Bergamo la fuga ormai da una vita, non ha perso mai. 47 punti, scusate se è poco, con una gara da recuperare. Cuneo distaccatissimo insieme col Taranto a quota 31. Il Cuneo ha giocato tutte, mentre il Taranto ha due gare da recuperare. La SIECO ha due gare da recuperare, segue dunque questo gruppetto di testa al quinto posto con 25 punti. Per quanto riguarda il resto, a 23 ci sono Reggio Emilia che ha due gare da recuperare, però una l'ha già anticipata col Mondovì, se ricordo bene. Castellana Grotta e Brescia hanno giocato sempre. Santa Croce ha 20 punti, 3 gare addirittura da recuperare. Mondovì 16 punti con una gara in più, Cantù 15 punti e una gara in meno. Lago Negro 8 punti e una gara in meno. Chiudo con Lago Negro, così ci agganciamo anche a Guido, perché Lago Negro, caro Guido, ha i tuoi due ex giocatori bravi, molto bravi, Molinari, che tu ricordi senz'altro, e soprattutto quello Scufia che ha esordito, diciamo così, proprio contro l'Ortona, fece una gran bella partita al posto di Tuno che si era fatto male. Che ricordo hai, Guido, dei tuoi che affronteranno proprio la SECO Service domenica prossima? Ma un ricordo positivo di tutti e due i ragazzi. Sono due professionisti, due ragazzi molto attenti, sempre disponibili in palestra, disposti a sacrificarsi. Abbiamo, come dire, in estate abbiamo fatto molta difficoltà ad escluderli, tant'è vero che inizialmente c'era stato anche, dopo l'infortunio dell'opposto di Bulfon, come dire, eravamo anche dispiaciuti sul fatto che non l'avevamo tenuto, perché credevamo in questo ragazzo. e quindi io ricordo che ho, sono due bravi ragazzi, due grandi professionisti e auguro a loro un percorso sereno, un percorso pallavolisticamente parlando di alto livello. Bene, allora ti faccio fare gli auguri prima di licenziare, tra virgolette, il nostro mister Nunzio Lanci, proprio dal tecnico dell'Impavida. Un augurio di ritrovarsi a fare un derby? Sì, possiamo dirlo? Ah, mi ha, più che mi auguro. Guido sta toccando ferro. Il prossimo boccalupo a Pineto, che io ho visto giocare l'ultima partita in televisione con Totuscanio. Gioca molto, molto bene. Sì, sì, merito va sia ai ragazzi che a Gianni. Rossichini, certo. Stanno facendo un buon lavoro e giocano una buona pallavolo, soprattutto molto redditizia e hanno acquistato consapevolezza, perché poi perdere Moreri dopo, non mi ricordo, mi sembra, a metà del primo sette, si scrive immediatamente. Questo significa che i ragazzi hanno acquistato consapevolezza, cioè le vittorie regalano della vittoria. Bisogna capire il significato, non bisogna essere presuntuosi o presumere di sapere più degli altri o per essere più bravi degli altri, ma consapevoli che in questo momento puoi giocarla con tutte e riuscire a portare le vittorie da parte tua, che è molto diversa, a presunzione della consapevolezza. Soprattutto in uno sport come la pallavolo, dove gli episodi possono far girare una partita da una parte o dall'altra, soprattutto nella parte finale da esempio. Quindi più che un augurio e un grosso in bocca al lupo, penso che possano fare benissimo e l'augurio che possono fare è quello di arrivare in perfetta forma e nel miglior modo possibile quando poi si giocheranno tutta la stagione, con il giusto atteggiamento e con la giusta voglia di poter portare il risultato finale dalla loro parte, come d'altronde stanno dimostrando, che sono capaci di poter arrivare. Grazie, grazie. Puoi fare anche a me un grosso in bocca al lupo a Nunzio Lanci, a Lortona, che è un modello per la pallavolo abruzzese. Noi a piccoli passi stiamo cercando in qualche modo di capire quello che è stato il segreto per tanti anni che ha portato Lortona a stare ai vertici dei campionati di Serie A. Quindi un grosso in bocca al lupo a Lanci e a tutta la sua famiglia. Nunzio, a voi. Grazie, grazie Guido. Nunzio, solo un flash. Grazie, troppo buono. No, la verità, io ho detto la verità. Nunzio, siamo qui. In un collegamento Zoom certe volte è difficile contattarsi. velocissimamente, ricordiamo, tu l'hai detto prima, a nove anni di A2, il prossimo sarà il decimo consecutivo, perché comunque non ci sono neanche retrocessioni, quindi comunque è sicuro il decimo. Siete molto motivati per questa decima stagione in un flash? Guarda, Sergio, questo è un anno molto particolare. Non mettiamo il caso davanti a voi perché... Però a dieci ci dobbiamo arrivare, eh? Eh, aspettate, aspettate, noi ce la metteremo tutta, dai. Va bene. È una situazione un po', è tutto, è tutto quanto quest'anno, secondo me ci saranno un sacco di sorprese perché la situazione non è ideale. Però vedremo, dai, noi abbiamo tutta la voglia di continuare, vedremo se si creeranno i presupposti per poterlo fare. Ti ringrazio ancora, Annunzio, adesso c'è lo stacco pubblicitario, allora facciamo così, facciamo con lo stacco pubblicitario e riprendiamo direttamente con il Pineto, via. Bene, eccoci di nuovo in diretta e credo che ci siano altri due collegamenti arrivati con qualche minuto d'anticipo perché avevamo riservato una seconda parte, però li posso presentare entrambi, beh, uno è vincente, uno è perdente, cominciamo dal perdente, dai, facciamo così, Giovanni Mariotti, buonasera Giovanni Mariotti, mi senti un po', io dico sempre direttore generale, ma tutto fare, tutto, beh, insomma, precedenza agli sconfitti, facciamo il contrario. E allora, qui c'è un vincente che... Grazie per il cappello di presentazione. Come? Come hai detto? Grazie per il cappello di presentazione, insomma. Sì, magnifico per cominciare. Però, visto, la buona notizia è arrivata poco fa da Fabio perché non si retrocede quest'anno, quindi già in Serie B. È giusto Fabio, me lo confermi? Sì, sì, certo. Così lo tranquillizziamo. Sì, sì, ma non è una bella conflazione, eh. Sì, va bene, d'accordo, però, insomma, è giusto per... Comunque, noi cercheremo di perdere il meno possibile per vincere l'anno prossimo. Bravo, bravo. Perfetto, perfetto. Ti sta a sentire il mister Bruno Mazzucato. E presento anche il general manager, chiamiamolo così, va bene Carlo Mattucci? Va bene, va bene. Per la formazione dell'LG Impianti Futura Teramo. Buonasera a tutti. Che è un general manager vincente, giusto? Per una partita... Sì, diglielo a Giovanni Mariotti. Questa settimana sì, poi la prossima si vedrà. No, ma io mi riferivo al derby, dai, scherziamo, naturalmente. Con Giovanni ce la possiamo permettere, è sempre disposto alla battuta. Allora, ripartiamo rapidissimamente, perché poi vedremo le immagini anche del derby. Purtroppo mancano quelle dell'altro derby, che sarebbe stato molto interessante tra chi è di altino, non si è giocata. Allora, con i risultati della tre, sedicesima giornata, girone blu. Vediamolo insieme, con il nostro Maurizio D'Aquino e con Karim, che io ringrazio, la parte tecnica. Allora, Lecce, Grottazzolina 1 a 3, Abba, Pineto, Roma 3 a 0, a 17, 16 e 14 parziali. Tuscania, Palmi 3 a 0, Sabaudia, Modica 2 a 3, Acce, Castello, Aversa 0 a 3, 0 a 3, anche tra Ottaviano e Galatina. Al primo posto, l'Abba, Pineto, Volle con 38 punti, ma insieme con il Grottazzolina, che dovrà giocare l'ultima, mi sembra, del regular season, proprio a Pineto. È giusto, Guido? È proprio l'ultima? Sì, l'ultima è la penultima. Esatto, vabbè. Per quanto riguarda la terza classificata, insegue il Galatina a quota 37, poi Tuscania a 32, Modica a 24, Aversa a 23 con una partita in meno, Sabaudia a 21, Roma a 20, Lecce con una gara in meno, 16, Palmi 15, Ottaviano con due gara in meno, 13 punti, Acce, Castello chiude con 5 punti. Approfitto intanto per ringraziare, per quanto riguarda il tuo Pineto, Guido, il presidente, e un certo Antonio Di Berardino, che tu conosci molto bene, insieme con Francesco Paolo Salviani, che fanno parte dello staff della comunicazione, sempre molto gentili, Fatio Andervisci, che ci fornisce gli scout puntualmente e tempestivamente, saluto anche Michele Marano, che è lo speaker, la voce del cuore pinetese. Li saluti anche tu e approfitto anche a questo punto per ringraziare un altro responsabile della comunicazione dell'impianti Futura Teramo, Nicola Smaranca, è stato gentilissimo, ci ha fornito le immagini e tutti i dati che ci servivano e visto che ci siamo, ringrazio anche per le immagini, per adesso e anche per le successive volte, Dario Blazioli, che è il nostro inviato speciale come cameraman che segue la Rabona, Polimatic, eccetera, eccetera. E allora, Guido, ripartiamo da te. Credo che non ci siano stati dubbi per quanto riguarda la partita, anche se all'inizio qualche segnale, tra virgolette, rilevato negativamente dal mister c'è stato, perché la squadra non aveva trovato la concentrazione giusta. Concordi con quello che dirà, sentiremo fra un attimo, Giovanni Rosichini? Sì, sentiamo prima Giovanni o parlo io? Vai, vai, sentiamo una battuta tua. Sì, durante la partita... Gianni, dai, facciamo come hai detto tu, sentiamo quello che dice Gianni e così lo commentiamo. Sentiamo il mister Gianni Rosichini al nostro microfono a fine gara. Finisce con un 3-0 secco a 17-16-14 parziali che non fanno discutere per niente. mister Giovanni Rosichini, tutto semplice, ma soprattutto undicesima vittoria consecutiva, 33 punti su 33 da conquistare. Nessun commento ulteriore? Allora... Per tutta la partita quella mentalità che è giusto che abbiamo. È chiaro che la partita si è svolta in maniera abbastanza semplice, ma attrettanto chiaramente l'approccio non può essere così molle, per così dire. Beh, si fa per dire, insomma, comunque, avete trovato un avversario sinceramente al di sotto delle aspettative, questo va detto, ed eravate senza Morelli. Sì, però i ragazzi che giocano o che sostituiscono Morelli sono di alto livello, per cui l'approccio secondo me di una squadra che vuole far bene in questo campionato, anche in queste partite che sulla carta, non sulla carta, che sul campo si dimostrano più semplici di quello che pensavamo, non dobbiamo renderle noi più difficili. La pignoleria di un allenatore come te, Giovanni, fa pensare soltanto bene. Naturalmente dopo 11 vittorie consecutive e 33 punti conquistati vai cercando il pelo, anche perché, e fai bene, avete una partita impegnativa ad Aversa nel prossimo turno. No, no, i ragazzi io non posso chiedociarli perché fino adesso sono stati bravissimi, continuano a lavorare molto bene, si impegnano, per cui nulla da dire. Proprio perché sono ragazzi intelligenti debbono capire che debbono avere sempre, sempre un atteggiamento di un certo genere. Aversa? Aversa è una partita, secondo me, molto dura, molto difficile, sta facendo molto bene in questa fase del campionato, giochiamo in trasferta e cercheremo di fare del nostro meglio perché è chiaro che ogni partita va giocata al massimo delle nostre possibilità. Bene, il riferimento naturalmente era con l'inizio, con la partenza 1-3, 2-4, però poi 6-4, c'è un parziale di 4-0 e praticamente il discorso si è chiuso con un largo anticipo. La squadra ha tornato la giusta concentrazione al di là dell'assenza di Morelli, che è un'assenza che pesa. A proposito, un paio di partite per rientrare, Michele? Sì, io penso che domenica non gioca, penso che domenica il mister non lo rischia, anche se forse potrebbe anche rischiarlo, ma non credo che lo faccia, non conviene a nessuno, quindi è meglio aspettare, domenica giocheremo senza Morelli. Però, come ha detto il mister, io ho grande fiducia in questa squadra e chi gioca sa cosa deve fare, anche se, come dire, già l'ho detto altre volte, consegnare un opposto di questo calibro a una squadra avversaria non è cosa semplice. Tu prudente nel post partita, lui Pignolo, sei d'accordo? Però giustamente Pignolo, perché non bisogna cedere nulla all'avversario, anche perché di fronte avevi la Roma, avessi avuto una squadra più forte come qualità e tutto il resto, magari avresti anche rischiato di cedere il set iniziale, è un po' quello il messaggio che voleva mandare forse Gianni? Secondo me è il messaggio che voleva mandare Gianni, io ho guardato la partita insieme a un'altra persona a fianco a me e tutta la partita Gianni ha sbraicato sempre, sempre, e quello che guardava la partita a fianco a me mi diceva, ma scusi che problema c'ha Gianni, siamo in vantaggio nei 7 punti, 10 punti, di cosa ha da lamentarsi oggi? Però giustamente Gianni che è un conoscitore della pallavolo, che è un professore, un maestro chiamiamolo come giusto che sia, lui la paura sua era che la squadra si adagiasse poi a quei vittimi blandi che la smiroma era scesa in campo e quindi la paura del mister era che noi ci facevamo trascinare in un terreno molle, in un terreno insidioso dove noi facevamo difficoltà, invece voleva che tutte le palle dovevano essere gestite al meglio e questo era anche se i parziali non dicevano quello, i parziali siamo stati sempre avanti di 7, 8, 10 punti, però il mister lo guardava oltre come una partita anche per un allenamento e per migliorare la squadra in un'ottica di partite future che arriveranno, partite molto più impegnative a partire da domenica, da Versa, da Versa io credo che sia una partita molto dura, a parte che a Versa arriva da 5 vittorie consecutive e quindi è una squadra che ha preso la forma, ha preso gli equilibri e oggi vive un momento anche di entusiasmo, di euforia e giocare in un campo come quello non è mai facile, quindi domenica sarà un banco di prova importante e il mister secondo me era già lanciato a quella partita e non voleva distrazioni, non voleva che noi ci adagiassimo in un modulo di gioco che non era consono alle nostre aspettative. Guido, intanto ricordiamo che le partite dell'Hub Pineto andranno in onda su canale 287 ogni lunedì alle 20.30, mentre il martedì alle 20.30 stessa ora ci sarà la gara DC che abbiamo preannunciato prima con il presidente Fabio Di Camillo, o maschile o femminile a rotazione. Ripeto, ogni lunedì alle 20.30 le gare del Pineto sul canale 287. Pineto che ha avuto contro una Roma con il solo Rossio 11 punti, 14 punti con Claudio Cattaneo, sicuramente tra i migliori, 9 punti a testa per Eld e Trillini, 2 punti anche, tutti e due naturalmente dalla battuta, quindi due ace per Catone che ha messo in difficoltà l'avversario, complimenti al bravo Mattia che si fa trovare sempre pronto, un punto anche per il capitano Partenio, palleggiatore di altissimo livello, dico io, 6 punti per il bravo Razzi con 3 muri vincenti, 10 punti per Zornetta, due ace per lui, 3 errori in battuta, 62% in difesa da registrare, 3 muri anche l'argentino, 11 muri complessivi, sappiamo che è una forza, lo dici sempre tu, della squadra, 68 e 42 anche in difesa, molto bene, addirittura ben 8 ace contro i Romani. Allora due domande ti faccio, poi voglio sentire che cosa pensa del Pineto invece il presidente Fabio Di Camillo, la domanda numero uno è di chi è il merito per aver costruito una squadra così forte, al di là delle qualità di un allenatore espertissimo che lavora tanto bene con i giovani e di giovani ce ne sono parecchi, bisogna dire questo, squadra costruita bene, voi siete costruttori quindi insomma meglio di così il muro ci sta, ci manca niente. Sì, diciamo che di costruire ce ne intendiamo, passami la battuta, il merito Sergio è di una programmazione perché il merito viene da lontano e non arriva oggi, è chiaro che oggi il merito se lo vogliamo vedere in termini proprio stretti, i meriti oggi ce l'ha sicuramente il direttore sportivo che ha costruito una squadra importante, però il direttore sportivo per costruire la squadra importante qualcuno gliel'ha consentito. Chi è il direttore sportivo? Massimo Forester. Eh appunto, non lo vogliamo citare. È Massimo Forester, è chiaro. No, di rientrare in sede, beh. Esatto. No, stavo dicendo, se lo vogliamo vedere in termini stretti i meriti sono del direttore sportivo e sicuramente è allenatore, è allenatore che comunque su cui abbiamo creduto da sempre, non ha bisogno di presentazione, non ha bisogno che noi lo dobbiamo in qualche modo dipingere, e sappiamo chi è Gianni Rosighini e quindi il merito è sicuramente suo perché la squadra la puoi allestire anche in una maniera importante, puoi emettere un budget importante nella costruzione della squadra, ma quante volte abbiamo visto squadre corazzate costruite in una maniera importante e poi non fanno nulla. Eh sì, facevamo prima l'esempio di Lago Negro in A2. E quindi il merito, come dicevo, se lo guardiamo oggi, il direttore sportivo ha avuto un merito importante perché per esempio ha preso Eld, cui noi non conoscevamo e non avevamo trossa fiducia perché veniva da una retrocessione l'anno scorso in Serie A3, faceva il terzo o il quarto martello in A3 e oggi, se vogliamo dirla tutta, si è preso il posto a Luciano Zornetta che è l'unico straniero che avevamo preso, argentino, e oggi sta facendo l'opposto in assenza di Morelli. Quindi il mister li ha saputi sicuramente coordinare, però un piccolo passo indietro, come dicevo prima il merito poi è un po' di tutti perché se una squadra arriva a vincere 11 partite su 11 da tre punti senza lasciare nemmeno un punto agli avversari e questo non significa solo aver fatto una buona campagna acquisti, non significa solo aver preso un bravo allenatore, ma significa aver creato anche quell'alchimia giusta, aver creato quell'amalgama giusta tra società e squadra e questo è una cosa che crei con il tempo, crei con la passione, l'amore, l'impegno e la dedizione, quindi è un percorso che viene da lontano. Guido, un'ultima domanda e poi sei libero tra virgolette. Morelli è arrivato al posto giusto, al momento giusto, la situazione è cambiata anche grazie alla sua presenza perché avevate rinunciato a Bulfon sappiamo tutta la storia, rimpianti, solo questo in una battuta, per i punti regalati, per essere precisi un punto all'Ottaviano, tre punti alla Roma, due a Lecce e uno al Sabaudia, naturalmente escluso il Tuscania che ci può stare una sconfitta lì 3-0, sono punti con qualche rimpianto, se fosse state al completo la squadra dall'inizio magari avreste qualche punto in più, concordi? Sì, però, come dire, io concordo sì, ma non con i sec, con il mano, non... Guarda, se noi avessimo preso Bulfon da inizio campionato, oggi non avremmo preso Morelli e quindi in un'ottica futura, in un'ottica di playoff è chiaro che oggi va bene così, va bene così. Chiude una porta, si apre un portone. Presidente della nostra FIPA Vabruzzo, Fabio, che ne pensi del Pinetto? Tu hai una grande virtù secondo me che va riconosciuta, sei sempre dappertutto, vai su tutti i campi, giri di qua di là, non trascuri mai nessuno. Prima che tu parli però ho dimenticato prima due cifre molto importanti perché di Stefano Trillini voglio segnalare 6 su 7 attacchi, 86% a parte i tre muri e un 78% di posizione e di precisione per quanto riguarda la difesa del bravissimo Paolo Cappio, il libero, col 50%, 78,50. Cifre eccellenti. Ci tenevo a dirlo. Fabio, che ne pensi allora di questo Pinetto? Se ti ha sorpreso, ti aspettavi un'esplorata del genere quest'anno? Dunque allora, conosco molto bene Guido e gli voglio bene. Pinetto l'ho seguito abbastanza, quest'anno devo dire che complice il Covid e il fatto che sono ormai un over 64, devo stare attento ad andare in giro. Nonostante tutto, vecchietto, vecchietto. Quindi in realtà l'ho vista di meno, anche se alcune partite per fortuna le ho viste anche in televisione. Quello che mi convince del discorso del Pinetto è la capacità, diciamo così, organizzativa, economica della società. Mi preoccupa molto l'aspetto emotivo di Guido. Lui è troppo coinvolto, è troppo coinvolto. Già devo dire che stasera ha tirato fuori alcuni concetti che mi hanno un po' tranquillizzato barra rassicurato, ma io quando lo vedevo l'anno scorso, quando lo vedevo nelle prime partite anche di quest'anno, lui deve soffre troppo. Quindi quello paradossalmente può essere un problema, un aspetto quasi negativo invece di quella che è una gestione di un Presidente che deve essere lucida, deve andare oltre. Sicuramente quest'anno rispetto per esempio agli anni passati ho visto delle scelte di fondo, frutto forse del lavoro sicuramente del direttore sportivo, del team manager, del nostro amico Daroy, che penso che con la sua esperienza dia anche lui un contributo che vada in direzione della crescita della società, della struttura della società. Io quando parlo di struttura mi riferivo proprio a quello. Ma che è fondamentale, avere anche la capacità di assorbire le sconfitte, per esempio io molte volte all'inizio vedevo un po' un atteggiamento troppo schizofrenico, grande entusiasmo quando andavano bene le cose, magari disperazione al primo momento negativo, invece questo non deve accadere, deve essere una barra dritta che poi tutto deve andare in quella direzione. Ripeto, nelle scelte di fondo fatte quest'anno nel mercato io comincio a vedere un diverso atteggiamento nei confronti degli anni passati. Io ritengo che Paolo Cappio, il nostro Paolo Cappio, come libero sia una sciccheria e chi lo ha scelto ha una finezza incredibile, l'efficienza di quel ragazzo lì è straordinaria. Renato Lalloni mi piace pure citare, c'è altro prodotto locale che mi auguro che abbia anche spazio in futuro perché sicuramente è un bravo ragazzo, un ottimo atleta che è un abruzzese che per trovare spazi finora è dovuto andare un po' in giro per l'Italia, in altre società di questo livello qui e quest'anno sia Cappio che Lalloni hanno trovato in guido nella sua società gente capace di saperne valutare le potenzialità e di riportarle da noi che ci fa tanto tanto piacere. Il palleggiatore come voi sapete nella palla a volo è mezza squadra. Io di partenio sono letteralmente innamorato quando ho scoperto che era un palleggiatore definendo la cosa mi ha riempito di gioia, lo seguo da quando faceva il CQR, quindi faceva i trofei delle regioni con le marche da cui lui sia proveniente. È decisamente un regista di altissimo livello e quindi i risultati sono frutto questa volta di una certa programmazione che sta pagando. Fabio vado avanti, continuiamo perché ci sta anche la B maschile, voglio ricordare, adesso vediamo il quadro che Alba Adriatica Macerata è stata rinviata, ma questa volta per il mal tempo, il Covid non c'entra, credo che la Macerata non potesse partire, è una cosa del genere, comunque rinviata. Per quanto riguarda le altre del girone F1, Ancona all'oretto 3-0, come vedete dalla grafica Osimo Potentino di Potenza Piccina, 0-3, la classifica Ancona 9, Macerata 8, Potentino 6, Alba naturalmente con una gara in meno, Alba e Loreto 5 punti, Osimo 0, Alba e Loreto una gara da recuperare. Per quanto riguarda l'altro girone, il Paglietta vince, quindi complimenti, ne parleremo tra l'altro nella prossima puntata, che vi ricordo ci sarà giovedì alle 21 e non mercoledì, che poi tornerà orario canonico ogni mercoledì alle 21 e 30 con pallavolè. Dicevamo il Paglietta, nella quarta giornata batte 3-0 l'Andria, 15-22-14 parziali, Molfetta vince sul campo dell'Uciera 3-0, ha riposato il Gioia del Colle, Gioia del Colle comunque 9 punti insieme col Molfetta, 3 punti per il Paglietta, 0 punti l'Uciera e Andria, Paglietta ha già riposato, questo va anche detto a proposito del Paglietta del mister De Angelis, Picciano un punto con un ace, Evangelista 5 punti, anche lui ex Pineto, Berardi ex Impavida 6 punti, il capitano Nicotato Asciore ben 23 punti con due ace, 51% offensivo e anche due muri, due muri anche per Berardi e un muro per Evangelista. Per quanto riguarda Zaccagnini 2 punti, Andrea Lanci che conosciamo tutti, un punto anche lui, palleggiatore e guida di questa squadra, Piscitelli 8 punti con due ace, un ace anche per Alessandro Di Tuglio che di punti ne ha realizzati 6, anche con due muri, 7 muri complessivi per la squadra di Paglietta. Adesso andiamo al femminile dove abbiamo i risultati della B1, vediamo un po' il quadro dei risultati dove manca purtroppo il derby di cui abbiamo parlato, connetti Itti Chieti contro Altino Tenaglia è stata rinviata la gara, ci dispiace nella connetti non ha giocato neanche un incontro, Cisterna Casalde Pazzi 1 a 3, Santeria Trevi 3 a 0, Altino conduce con 6 punti insieme con Santeria e Casalde Pazzi, a quota 0 connetti Chieti, Cisterna e Trevi, Chieti meno 4 gare, addirittura 4 su 4, Cisterna meno 3 gare, Altino e Santeria 2 gare in meno, Trevi 1 gara in meno. Passiamo adesso finalmente per gli ospiti alla serie B2 femminile, girone I2, quarta giornata, LG Impianti Futura Teramo, Gada Pescara, Volei 3 a 0, a 22 a 7, 19 i parziali, Porto Sant'Elpidio Pagliare del Tronto 3 a 0, Arabona Fermo 3 a 0, a 21 a 21 e a 13 parziali, l'Arabona, complimenti, abbiamo dedicato anche il titolo, guida la classifica insieme col Porto Sant'Elpidio ci sarà nel prossimo turno, se ricordo bene lo scontro diretto con 10 punti, Impianti Futura Teramo come sordiente e come matricola non c'è male, 7 punti, complimenti davvero, Carlo sorridi, Carlo? Grazie, grazie. Ecco, appunto, Pagliare 6 punti, Fermo 3 punti e Gada Pescara 3 a 0 punti, per ora però, per ora, Giovanni, giusto? Solo per ora. E allora, a tal proposito, rivediamo queste immagini, poi parleremo anche di Arabona Fermo e con qualche battuta rapidissima, vediamo un po' di immagini di questa gara vinta dal Teramo. Allora, Carlo, raccontaci, intanto spiegaci un po' questa società perché devi presentarcela. Sì, è una società che come anzianità di iscrizione è ormai storica per il capologo di provincia di Teramo. Da tre anni però è subentrata una compagine esigenziale nuova, il presidente Roberto Mazzagatti, il direttore Luca Mazzagatti. Naturalmente li salutiamo, approfittiamo per salutarmi. Che salutiamo e sono veramente loro gli artefici di questa nuova vecchia realtà, con lui altri amici, tra cui sottoscritto, che si sono immessi in questa nuova avventura. Siamo tutte persone che frequentano lo sport da anni ma che si affacciano al volley da poco e quindi abbiamo raccolto con entusiasmo questo invito e siamo partiti con la volontà di far crescere un po' il movimento a Teramo che numericamente è sempre stato un ottimo movimento. Però da anni ormai mancava un po' l'eccellenza, quella squadra di punta alla quale fare riferimento. Stiamo cercando di fare questo e da quest'anno siamo partiti anche con una cosa molto importante che noi abbiamo definito Progetto Volley, che è veramente l'anima invece della nostra organizzazione. È un progetto che ha coinvolto oltre alla realtà di Teramo, anche le realtà di Montorrio, di Roseto e di Torricella Sicura che sono delle realtà importantissime per la provincia terramana e quest'anno è il primo anno. Purtroppo la situazione del Covid impedisce alle attività, soprattutto delle altre società, di partire come si deve. Ma l'obiettivo è a media lunga scadenza, nel senso che il nostro obiettivo principale è quello appunto di unire le forze del territorio e cercare di produrre le atlete partendo proprio dai nostri settori giovanili. E quindi siamo al primo anno, partenza di handicap, ma sicuramente appena la situazione si normalizzerà riusciremo a vedere i primi frutti di questa idea che io ritengo essere vincente. Giampaolo Marini è il direttore generale del progetto Volley, giusto? Sì, Giampaolo Marini ha avuto anche... C'è Roberto Castellani che è vicepresidente, voglio citarti. Roberto Giovagnini è il preparatore atletico di una squadra allenata da una certa Iana Kruzzikova. Iana Kruzzikova che è ex giocatrice di alto livello e poi è diciamo una abruzzese acquisita perché risiede sulla costa terramana e ha avuto esperienze... E la collaboratrice Raffaella Prezioso, giusto? Sì, anche seconda allenatrice e dopo c'è tutto uno staff tecnico che è distribuito come compiti sulle altre squadre del progetto ma che in questo periodo di stop ha contribuito in maniera fattiva alla crescita della prima squadra. Fra tutti vi permetto di fare il nome di Aldo Coccioli che poi è l'anima storica, il professor Coccioli è l'anima storica di questa realtà e ormai è un allenatore di vecchissima data ma ha sempre l'entusiasmo di un ragazzino. Sempre presente peraltro. Sempre presente e si è gettato a capofitto anche lui in questa nuova avventura. Non manca mai. Bene, società molto ambiziosa, voglio ricordare anche i punti delle singole giocatrici contro naturalmente il Gada Pescara 3 Greta Mazzagatti 13 punti, Aurora Patriarca e così le citiamo pure 11 punti la capitana Francesca Imprescia ex Giulia Nova, ricordo bene, 8 punti Monica Destinex chieti 7 punti, Marta Di Carlo 6 punti, Marianna Ferretti 4 punti, Cecilia Di Marco e Francesca Brandimarte 2 punti un punto a testa per Sofia Masciantonio e Marzia Ragnoli o Ragnoli, non so se si abbia pronunciato. Ragnoli, Ragnoli. Ragnoli. 10 ace per voi, 7 muri vincenti. Sull'altro fronte 4 ace per Pescara, allenato da Bruno Mazzucato che saluto e che voglio vedere presto con me con me, anche se in collegamento Zoom, purtroppo causa sappiamo che cosa Chiara Cocco ex Chieti, 7 punti, la migliore realizzatrice per le pescaresi Corinne Perla, altra giocatrice capitana anche della storica della Tiatina 6 punti per lei insieme con la capitana invece in campo Carla Ronzitti ex naturalmente Pescara eccetera sappiamo quanto sia brava Carla poi c'è Marta Angeloni con 3 punti, 100% per lei con 3 attacchi e 3 punti poi Giulia Dell'Orso 2 punti insieme con Alice Di Francesco infine Alessia Donatelli figlia di Ivano salutiamo naturalmente anche Ivano un punto soltanto allora Giovanni difficoltà iniziali, neopromossa la squadra non si retrocede, questa è la notizia buona di cui abbiamo parlato poco fa quindi si è più tranquilli è chiaro che è una squadra costruita con difficoltà me l'avevi detto strada facendo quali sono gli obiettivi naturalmente come dire importante è giocare ed essere presenti Gada Pescara 3 c'è sempre noi siamo una squadra anche abbastanza giovane perché quest'anno purtroppo abbiamo perso le due centrali e abbiamo inserito due ragazzine proprio 2004 e 2005 Giulia Dell'Orso insomma è un'impresa inserita alle ragazzine che insomma dal campionato giovanile ad un campionato di prima divisione le butti in mezzo al campo in serie B c'è stato un po' di problemi e poi anche il Covid è deciso per poi ci siamo potuti fermare più volte per contagi non all'interno della squadra ma al di fuori ma proprio ai confini di quella squadra e quindi è stato un problema quest'anno gli obiettivi è di fare tanta tanta esperienza di cercare di lanciare queste ragazze giovani il più possibile magari se ne possiamo inserire qualcun'altra che adesso è lì in panchina per poi l'anno prossimo riprogrammare una stagione un po' diversa sicuramente dovendo trovare qualche elemento di ora ecco tutto qui quindi non fate trame in casa siamo molto contenti di fare questo campionato anche se è un po' particolare un po' per questa questione della pandemia e così tutto qua Giovanni ti stavo dicendo non fate drammi se naturalmente la squadra dà quello che può dare mi sembra di aver capito questo puntate molto assolutamente no siamo consapevoli che la squadra è molto molto giovane senza pressione è una squadra che insomma è un po' rimediata abbiamo dei ruoli scoperti e quindi siamo in difficoltà in questo momento però è un'occasione ghiotta per far fare esperienza alle ragazze nostre nel nostro vivaio e lanciarne qualcuna in più insomma che serva anche ad esempio alle altre piccoline che dovevano disputare un cambio di inseriti quest'anno non si sa se si farà quello è un gruppo tutto quanto under 18 ed era importante insomma anche fare quest'altra esperienza per avere una seconda squadra pronta per insomma per inserire qualche elemento anche in prima squadra ecco questo è il nostro obiettivo e crediamo molto in queste ragazzine giovani noi chiediamo sul settore giovanile quindi se noi riusciamo ad andare avanti andiamo avanti con le ragazze nostre e con il nostro settore giovanile poi dopo venga ma non è la nostra mentalità fare una squadra da capo a piedi insomma è tutto qua bene siccome il tempo è tiranno ti senti Sergio? sì sì ti sento il tempo un po' tiranno un bel po' tiranno vado velocemente perché ho ancora due o tre cose da dire Carlo l'ultima domanda per te è stato molto chiaro Giovanni Mariotti sul suo progetto il progetto vostro il programma vostro riguarda un attimo di attesa per quest'anno ma soprattutto la proiezione per il futuro perché secondo me la società ben strutturata con tante possibilità anche esterne punterà molto in alto in futuro siete d'accordo con me? beh il progetto lo ho accennato e lo ripeto è quello di far crescere innanzitutto le atlete locali che è chiaro non possono essere solo quelle di Terramo città ma almeno della provincia già da quest'anno abbiamo inserito delle ragazze che l'anno scorso militavano a Roseto militavano a Montorio e ce ne sono altre pronte per approdare in prima squadra appena il campionato ce lo permetterà è chiaro che bisogna crescere ma senza far crescere la base gli obiettivi poi difficilmente si raggiungono e quindi noi vogliamo essere il punto di riferimento del territorio per far avvicinare innanzitutto tante ragazzine a questa splendida disciplina e poi coltivare tutte senza però trascurare le migliori che devono puntare a crescere con sacrificio con impegno naturalmente per poter aspirare a essere loro le protagoniste della prima squadra che naturalmente guarda al futuro con ottimismo e con la voglia di crescere sempre bene noi ci saremo anche con voi chiudo con il collegamento con Giovanni anche con Guido se vuole andar via anche perché siamo veramente alla conclusione non ti sento più anche io ho difficoltà a sentirvi va bene allora possiamo tagliare qui saluto anche Carlo Mattucci oltre Giovanni Mariotti grazie saluto a tutti resta il presidente grazie a voi 5 per la Romano un punto a testa per Scudieri Di Diego e D'Angio ci sono molte giovanissime per la squadra del bravissimo Giacomo Cesarone per quanto riguarda il libero ricordo che è la brava e collaudata Giorgia Santa Croce che salutiamo per quanto riguarda il prossimo turno lo vediamo rapidissimamente insieme prossimo turno di A2 maschile la Seco Service in Pavi da Ortona giocherà alle 18 domenica 21 febbraio sul campo del Lago Negro per la A3 domenica 21 febbraio stesso orario ore 18 Labba Pineto giocherà sul campo della Versa in B maschile sabato 20 febbraio Paglieta Lucera alle 18.30 al Palasporti di Paglieta Potentino al Badriatico alle ore 20 sempre di sabato 20 febbraio sempre sabato in B1 femminile Casal De Pazzi Connetti Teatina Chieti alle ore 16 domenica 21 l'Altino Tenaglia ospiterà il Santenia una gara uno scontro al Vertice alle 17.30 sul campo del Vallanzuca di Francavilla B2 femminile sabato 20 febbraio il Gada Pescara 3 ospiterà l'altra capolista Porto Sant'Elpidio alle 17 al Palorfento per quanto riguarda l'impianti di Futura Teramo alle 17.30 ecco qua intanto c'è Gada Pescara 3 Porto Sant'Elpidio eccoci al quadro che indica tutto questo dicevamo per quanto concerne le altre due di B2 femminile Pagliare del Tronto il 20 febbraio sabato ospiterà la Rabona alle ore 19 e infine l'impianti Futura Teramo giocherà sul campo del Fermo alle 17.30 subito dopo ci saranno i turni infrasettimanali ecco il motivo per cui abbiamo spostato al 25 giovedì turni soltanto di serie B per quanto riguarda la seconda puntata dicevamo che andrà eccezionalmente in onda giovedì 25 febbraio alle 21 chiudiamo con la serie C seguimi anche tu Presidente perché voglio una battuta conclusiva con te Teramo prima giornata Teramo Campobasso si è giocata 0 a 3 per la C maschile eccoci qua col quadro bene Segortona Termoli Teate Jurassic non si sono disputate Torrione L'Aquila Ceteas Montesilvano 0 a 3 riposato la squadra del Leone di Avezzano naturalmente al comando Ceteas Montesilvano e Campobasso con 3 punti a 0 tutte le altre naturalmente con una gara in meno perché non hanno giocato non si è giocato possiamo vedere solo la schermata per la C femminile Girone A non si è giocata nessuno si sta giocando soltanto Cusse L'Aquila Pratola ma le altre Ceteas Montesilvano Torricella Nereto Montorio non si sono giocate ha riposato il Giulianova stesso discorso per la C femminile Girone B per questa prima giornata ha riposato il Cepagatti una giornata in cui non hanno giocato con Etichietti contro Campobasso Union Ortona contro Penna e D'Annunziana contro Loreto Aprutino bene penso di aver detto tutto il saluto finale a te Presidente perché ci dobbiamo curare soltanto che la situazione possa leggermente progressivamente migliorare perché se no sarà dura fino alla fine di questa stagione la scommessa che abbiamo fatto è quella di ripartire in un mare in mezzo a un mare di difficoltà ad oggi la prospettiva per il prossimo weekend è decisamente migliore dovremmo avere una o due gare rinviate perché quelle invece di sabato scorso si sono sommate problemi di covid ad altri problemi di disponibilità di impianti requisiti all'ultimo momento per fare le vaccinazioni o per fare gli screening di massa perché purtroppo come vediamo quotidianamente sui mezzi di informazione le palestre diventano anche luogo di utilizzo per questa maledetta pandemia e quindi sabato scorso ci auguriamo di non ritrovarci il prossimo weekend nelle condizioni che hanno caratterizzato quello passato e speriamo di andare avanti noi ce la metteremo tutta per riuscire comunque a portare a casa la conclusione di questi campionati di serie C e poi naturalmente anche dei campionati di categoria maschili e femminili che per la nostra federazione sono riconosciuti come di rilevante interesse nazionale il nostro territorio sud-est è partito si sono disputate alcune gare anche qui tra molte difficoltà il nord-ovest ha scelto di procrastinare un attimino ritardare sebbene in questo momento con i dati che arrivano quotidianamente intorno a questa diffusione paradossalmente come sappiamo tutti il territorio più pericoloso è proprio quello sud-est c'è le province di Pescara e Chiedi mentre per fortuna c'è un attimo di tregua per quanto riguarda il numero dei contagiati nelle aree di terreno detto questo quindi aspettiamo speriamo di recuperare e andiamo avanti con buona fiducia grazie per lo spazio grazie per la disponibilità e alle prossime trasmissioni grazie anche a te al presidente Fabio Di Camino naturalmente ti avremo ospite anche in altre circostanze appuntamento giovedì prossimo dunque poi riprenderemo il mercoledì però alle 21.30 mentre giovedì prossimo alle ore 21 ringrazio lo staff tecnico con Maurizio D'Aquino è il nostro Karim è proprio tutto grazie e buonanotte questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate grazie a tutti